Da febbraio le ricariche di reddito e pensione di cittadinanza saranno calcolate sulla base del nuovo ISEE 2022 e abbiamo visto già in passato cosa potrebbe accadere al beneficio. Tuttavia la storiaccia del taglio degli importi ha inserito un nuovo elemento in una equazione già abbastanza complessa, cambiando di fatto le carte in tavola. Perciò cerchiamo di analizzare insieme quali sono i casi che ci troveremo ad affrontare dal prossimo mese. Decadenza, sospensione, ISEE più alto o più basso e importo della ricarica. Ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e io sono Mattia e diamo subito il via al nostro appuntamento di oggi parlando di reddito di cittadinanza. Vediamo per prima cosa il discorso decadenza. Perché da febbraio il nostro reddito di cittadinanza può decadere? Le ragioni possono essere diverse. Superamento delle soie imposte come requisiti oppure mancata comunicazione di alcuni obblighi. Come sappiamo nel mese di febbraio arriverà la prima ricarica RDC che si basa sul nuovo ISEE 2022 che IMSS analizzerà per vedere se siamo ancora in possesso dei requisiti. Il primo requisito da prendere in considerazione è proprio il valore generale dell'ISEE che ti ricordo deve essere inferiore a 9.360 euro. Ora, se nel nostro caso tale valore è più alto, è necessario valutare se questo è di peso dal reddito di cittadinanza stesso che abbiamo percepito nel 2020 e che ora si trova nel nostro ISEE perché, in tal caso, IMSS non ne terrà conto né per il calcolo della ricarica ordinaria né per il requisito generale. In particolare, in sede di controllo, IMSS toglierà dal valore generale dell'ISEE la quota aggiunta come RDC. Come ripetiamo sempre, il reddito di cittadinanza non fa reddito su se stesso. Discorso diverso se il nostro ISEE è più alto perché il nostro nucleo ha un reddito familiare più alto escludendo l'RDC. Stipendi, REM e altre prestazioni non saranno sottratte dal valore generale del nostro ISEE e quindi il loro peso sarà preso in considerazione per il controllo di questo requisito. Non solo ti ricordo che tra i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza c'è anche quello legato al reddito familiare che deve essere più basso di 6.000 euro per la scala di equivalenza del nucleo familiare, 7.560 euro per la scala di equivalenza se invece riceviamo la pensione di cittadinanza, infine 9.360 euro per la stessa scala di equivalenza se siamo in affitto. Sulla base di questo parametro, poi, ti ricordo che viene calcolato anche l'importo della ricarica o più precisamente la quota di RDC di integrazione al reddito vera e propria, ma di questo ne parliamo più avanti. Discorso ancora diverso se il nostro ISEE 2022 è più alto perché abbiamo un patrimonio più alto, nominalmente l'ISP, indicatore della situazione patrimoniale. Per rimanere in possesso del reddito di cittadinanza dobbiamo avere un patrimonio mobiliare, giacenze, conti in banca, eccetera, al di sotto del valore massimo che si calcola partendo da 6.000 euro per single, a cui si aggiungono 2.000 euro per ogni altro membro del nucleo familiare, fino a un massimo di 10.000 euro. Tale massimale aumenta ancora di 1.000 euro per ogni figlio dopo il secondo, di 5.000 euro se un componente è in stato di disabilità, di 7.500 euro per i membri in stato di disabilità grave. Inoltre, il nostro patrimonio immobiliare, esclusa la nostra abitazione, deve essere più basso di 30.000 euro, anche all'estero. Ora, se dall'ISEE 2022 risulta che non rispettiamo tali requisiti, la nostra domanda decadrà. Ma non è tutto perso. Infatti, se abbiamo i requisiti necessari, possiamo chiedere un ISEE corrente, sia per le variazioni reddituali, sia per quelle patrimoniali, di cui abbiamo parlato in questo video. In ultimo, la nostra domanda può decadere per ragioni diverse. Escludendo per un attimo le condizioni specifiche di decadenza, ad esempio se non rispettiamo gli obblighi dei patti, la nostra domanda può decadere se non abbiamo comunicato per tempo le variazioni patrimoniali che avrebbero potuto farci perdere il beneficio, oppure i redditi presunti di un lavoro iniziato lo scorso anno, ma che continua in questo tramite il modello RDC come esteso. Abbiamo parlato di tale scadenza in questo video e se la nostra domanda decade per questa ragione, non potremo fare nuovamente domanda prima di 6 o 18 mesi. Passiamo adesso alla sospensione. Quando ci viene sospeso il reddito di cittadinanza? Tra le varie possibilità c'è anche quella della sospensione, che però è meno grave di quello che sembra. Si tratta infatti della circostanza in cui non siamo riusciti ad aggiornare l'ISEE 2022 entro il 31 gennaio. Ebbene, come ti abbiamo spiegato nel dettaglio in questo video, il nostro RDC sarà messo in pausa fino a quando IMSS non riceverà la nostra DSU e a quel punto provvederà a ripristinare le ricariche come arretrati. Certo, sempre a condizione che il nostro ISEE rispetti i requisiti di qui sopra. E in ultimo, il discorso ricarica sarà più alta, sarà più bassa, sarà sempre tagliata. Ebbene, partiamo subito dal presupposto che sì, dopo il disastro delle ricariche tagliate per chiunque riceva maggiorazioni sociali, incluse quelle legate all'invalidità civile come l'integrazione al milione, le ricariche resteranno sempre decurtate. Se vuoi scoprire il motivo ne abbiamo parlato qui nel dettaglio. E resteranno tagliate fino a quando gli interpelli al Ministero del Lavoro non daranno parere contrario all'interpretazione messa in pratica in questo momento e non è detto che lo farà. Quindi, tralasciando per un attimo questo tristissimo capitolo dal finale annunciato, l'altro aspetto che può influenzare la ricarica è il valore del nostro reddito familiare dell'ISEE 2022, da cui verranno espunti sia all'RDC sia ai trattamenti assistenziali che abbiamo ricevuto nel 2020. Ma qui si sommeranno i trattamenti assistenziali di cui stiamo godendo al momento, le tristemente note maggiorazioni sociali, la carta acquisti, il bonus terzo figlio e così via. Ovviamente più i redditi familiari saranno alti, più la ricarica sarà bassa e viceversa. Tuttavia, ciò non influisce sul contributo per l'affitto a RDC, perché se siamo in possesso dei requisiti ma l'integrazione al reddito arriva a zero, abbiamo comunque diritto alla quota B del reddito di cittadinanza. In ultimo, prima di salutarci, vale la pena sottolineare che se il nostro reddito familiare del nostro ISEE 2022 non rispecchia la nostra attuale situazione, perché magari negli ultimi due anni abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso un trattamento assistenziale, oppure ancora abbiamo subito una riduzione del reddito familiare di almeno però il 25%, allora potremo presentare un ISEE corrente per variazione reddituale per cercare di avere una ricarica più alta. Ma lo ripeto, è sempre opportuno valutare questa opzione con un professionista se non siamo veramente sicuri di ciò che stiamo facendo. Detto questo, noi ti ringraziamo per aver guardato fin qui. Se l'approfondimento ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Se hai domande, scrivile nei commenti e se vuoi saperne ogni giorno di più. Su Fisco, Previdenza e Agricoltura torna a trovarci anche domani. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!